La squadra mobile della questura abate esattamente a metà organico rispetto, per esempio, a una provincia simile dal punto di vista della popolazione come quella di Brindisi. I carabinieri del comando provinciale della sesta provincia sono 370 nel complesso, mentre sempre nel Brindisino sono 550, un carabiniere ben oltre i 1000 abitanti, quando in Italia la media nazionale è un carabiniere ogni 650 abitanti. I finanzieri sono nel complesso 254 nella BAT, mentre il comando provinciale di Brindisi ne conta 540, oltre il doppio. Sono solo alcuni dei numeri che il procuratore della Repubblica di Trani, Renato Nitti, ha voluto mettere nero su bianco e presentare durante un importante convegno sulla criminalità nella BAT, svoltosi ieri a Canosa. Il suo è un vero e proprio allarme, oltre che appello. Io mi rendo conto che c'è uno sforzo enorme da parte delle istituzioni regionali per cercare di fronteggiare a livello regionale quel che si può. Parlo ovviamente dei comandi regionali, ma questo non basta perché la dotazione, gli organici complessivi non dipendono dal livello regionale, quindi si può e si deve fare di più. Il procuratore Nitti più volte nel corso della sua lunga relazione ha ricordato come la BAT sia nata come una provincia senza. Una provincia che dal 2009 ha scontato ben 12 anni di assenza di strutture provinciali di controllo, come per esempio la Questura. Una provincia in cui invece la criminalità ha alzato decisamente il tiro, riportandola a dei tristi primati nazionali. Come si fa a combattere il primato nei furti d'auto se in Questura, a occuparsi di questo problema, c'è una squadra che conta meno persone delle dita di una mano, ha spiegato Nitti. È stata una provincia senza istituzioni dal 2009 fino al 2021, senza istituzioni intendo dire senza squadra mobile, comando provinciale dei carabinieri, comando provinciale della Guardia di Finanza. Questo significa tecnicamente che non c'erano reparti investigativi in questo territorio. Lo scotto lo paghiamo, lo paghiamo in maniera anche molto forte. Del resto ancora adesso mancano alcune delle istituzioni che in ogni provincia debbano esservi. Faccio un esempio. Il NIPAF, che è il nucleo investigativo dei carabinieri forestali e che deve esistere in ogni provincia, nell'ABAT non esiste, non è neanche pensato. Il NIL, che è il nucleo investigativo dei carabinieri in materia di lavoro, non esiste all'interno dell'ABAT. Su tutto questo c'è ancora tanta strada da fare. Altro grande problema è stato quello di negare l'esistenza di una malavita con una sua profonda identità nella sesta provincia pugliese. Una malavita che opera da sola sul territorio, ma che non disdegna collaborazioni con le organizzazioni criminali di altre realtà territoriali. Il punto è esattamente questo. Occorre, come ha detto anche in questo territorio Don Luigi Ciotti, che ha pienamente condiviso questa lettura e ha domandato, e faccio mia quella sua domanda, ma davvero occorre che accadano dei fatti eclatanti perché si ponga rimedio ad un chiaro esempio di sottodimensionamento delle forze di polizia.